Ciao a tutti ragazzi sono Yaki Dale e oggi siamo qui nell'undicesimo episodio di Minecraft e ragazzi siamo qui sulla nostra bellissima isoletta ovviamente l'erba sta ancora crescendo perché non ha ancora finito però diciamo ha fatto progressi e guardate che bella che è verde proprio è completamente un'altra storia e poi volevo mostrarvi qua praticamente così a caso ho scavato un buco volevo fare una sorta di base segreta e guardate che bug strano noi andiamo giù qua non ci sono né scale né niente ma c'è semplicemente l'acqua all'esterno e se noi andiamo qua sale proprio a caso non so come mai magari possiamo sfruttarlo per fare tipo degli ascensori o altre cose interessanti e quindi vedremo per il resto l'isola è rimasta praticamente uguale andiamo un attimo per di qua ho spostato il letto qua non mi ricordo se ve l'ho mostrato però è molto molto più figo e qui 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 sto costruendo una cosa molto molto interessante si ero entrato in un altro server avevo messo in pacifica magari mettiamo la difficoltà mi sembra una cosa intelligente visto che è un mondo survival vabbè tanto di giorno non cambiava niente comunque vedete là sto costruendo questo ponticello che mi sembra veramente carino quindi oggi andremo a terminarlo e poi lì ho fatto una sorta di stanza interrata che mi sembra anch'essa molto molto carina quindi vediamo un po' cosa fare diciamo che è fatto molto molto semplicemente qui ho fatto dei pilastri in legno e qua sono gli slab e la cosa bella è che sembra un ponte sospeso tipo di quelli in ferro con i tiranti che ci sono sopra i fiumi e quindi vediamo un po' cosa avviene dobbiamo fare semplicemente l'altro pilastro e quindi dobbiamo andare a spaccare tanti belli alberi in realtà ragazzi vi racconto questa piccola cosa nel mentre in cui andiamo in là la mia idea del video di oggi era di costruire la farm di scheletri perché per chi non lo sapesse sotto la mia casetta quella lì c'è uno spawner di scheletri e non l'abbiamo ancora reso diciamo dobbiamo renderlo sicuro molto molto semplicemente intanto mi si è spaccata l'altra accetta e ne facciamo subito un'altra eccola qua bam accetta alla mano andiamo 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 ad accettar piantiamo i nostri alberelli uno qua uno là e quindi ci vediamo appena avrò spaccato tutto quanto ancora un po' di legne e siamo a posto la intanto c'è il coso che avevo fatto nello scorso episodio per avere una visuale dall'alto e non si è ancora tolto si ultimo albero vai già che ci siamo prendiamo un po' di canne da zucchero che non fanno mai male l'importante è lasciare sempre una parte piantata così continueranno sempre a crescere qua c'è il nostro bel ponticello tu che ci fai qui muori qua avevo fatto una sorta di cosa di vetro sinceramente non mi piace troppo però è anche un po' carina un po' diciamo da questa cosa moderna che manca un po' e quindi non so fatemi sapere cosa ne pensate potrebbe essere un'idea ci lanciamo giù e iniziamo a mettere la legna ok così così tacchete 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 su 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 abbiamo finito ragazzi direi facciamo ancora un coso in questo modo ok perfetto finito adesso dobbiamo fare questa bella cosa con gli slab con calma la facciamo noi mettiamo prima uno così poi dobbiamo mettere tipo la terra qua e metterlo qua poi metterne uno qua e usare la terra come sostegno in modo da aiutarci per la nostra costruzione poi ovviamente la toglieremo allora terra così tacchete 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 ovviamente gli slab che ho non ci basteranno ma in teoria in teoria non ne sono neanche sicuro dovremo avere dell'altra pietra speriamo ok sono bastati precisi però ci servono anche i materiali per fare quest'altra fila quindi ci buttiamo giù togliamo questa terra che ovviamente non si può vedere la togliamo a mano perché noi siamo trasgressivi e guardate che bellino ragazzi sembra proprio un ponte vero di quelli yeah boom 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 mi piace mi piace mi piace magari nel frattempo mangiamo qualcosa i meloni mi sembrano un buon cibo e andiamo anche a dormire quello scheletro lì non mi piace però non dovrebbe dare fastidio no no non dovrebbe dare fastidio mi toccherà ucciderti bene perfetto dormiamo di nuovo yeah mettiamo a cuocere il pollo facciamo altri slab 12 si dovrebbero bastare speriamo perché ho finito la pietra poi qua si va avanti avevo iniziato questa stanzetta che devo dire mi piace moltissimo poi qua c'è questa galleria che porterà una stradicciola ovviamente sono tutti i progetti futuri che ci collegherà a quel fantastico nether reactor ci vorrà una vita per fare tutte queste cose ne sono consapevole però intanto ne approfittiamo per prenderci un po' di pietra perché ragazzi non ne abbiamo praticamente col progetto dell'isola artificiale ho finito tutta la pietra che ne avevo e ragazzi vi garantisco che ne avevo veramente tantissima dai prendiamo anche un po' di carbone che non fa mai male ok dai non ci servono tonnellate di pietra quindi possiamo ritornare su chiudiamo anche il tutto perché noi siamo amanti dell'estetica quindi abbiamo fatto un altro po' di slab e dobbiamo rifare la stessa cosa qua ok magari riesco a fare una cosa molto molto tattica quindi metter tipo prima tutta la terra e poi tutto il resto ok quindi è così e dobbiamo andare a riempire sopra quindi tac 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 ragazzi sono un genio tac anche qui anche qui anche qui e ultimo pezzo qua yeee abbiamo completato la nostra opera lì però direi che non mi piace quindi facciamo un qualcosa di questo genere tacchete tacchete e qua ci inventiamo una sorta di tramezzo supporto cose varie togliamo tutto eeeh magari farsi una pala no eh yaki no troppo complicato bah non mi piace moltissimo questa cosa qua non lo so ragazzi non lo so di per se il ponte non è malissimo sicuramente la cosa più divertente sarà fare su e giù invece di passare sotto sono sicuro che lo farò sempre perché ragazzi è così in minecraft si fanno le strade e poi si cammina sui bordi magari 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 si potrebbe fare una cosa di questo genere giusto per abbellire un po' per rendere la cosa un po' più vivace così che ne dite dai è carino fa schifo oppure 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 possiamo fare un qualcosa di questo genere piazziamo la crafting table e facciamo degli slab così li mettiamo tipo a coperchio si 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 grande idea yaki no mi piaceva di più prima ragazzi brutta idea no fanno schifo ragazzi togliamoli via 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 così invece ci stanno ragazzi anzi 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 e il nostro ponte è terminato così sembrano tipo due corna molto molto strane ragazzi mi piace devo dire che è molto molto figo vediamo un po' come viene da lontano dai così giusto per curiosità giustamente sta venendo la notte questo ragno romperà le scatole quindi lo ammazziamo con l'accetta perché ovviamente ragazzi non ho una spada guardate che carino ragazzi con il tramonto dietro mamma mia che belle immagini mangiamo le mele dai non è malissimo se consideriamo che comunque è un ponte quindi deve fare la sua funzione se in più è anche abbastanza carino non è assolutamente male però va bene va bene fa schifo sto facendo degli esperimenti ragazzi eh non badate a me vabbè dai io direi di lasciarlo così che comunque è carino mettiamo una torcia qua togliamo queste due che sono veramente inguardabili così vicine la mettiamo qua poi per forza dobbiamo mettere anche delle torci qua se no nascono i mostri stessa cosa di qua e quindi ragazzi questo è il nostro bellissimo ponticello fatemi sapere cosa ne pensate secondo me non è bellissimo però comunque è abbastanza carino qui intanto c'è questa stanza che potremmo fare un po' come vogliamo non lo so ragazzi scrivetemi qui sotto cosa possiamo fare qui magari possiamo mettere tipo tutti gli animali potrebbe essere un'idea ovviamente arrivano sempre i messaggi su whatsapp tra l'altro non ho neanche più l'armatura perché mi si è consumata totalmente veramente un grosso peccato e quindi direi che questo è il nostro ponte finito guardate da questa angolazione che carino che è dormiamo e poi possiamo anche concludere l'episodio saliamo sulla nostra bellissima torre qua c'è la nostra grandissima isola guardate l'erba bella l'erba verde che bella l'erba bella verde che è qua c'è la nostra bellissima isola guardate che bella che è l'erba verde scusate è tipo uno scioglilingua guardate che bella che è l'erba verde l'erba verde guardate che bella che è si yaki non sai parlare ammettilo non lo so ragazzi da questa prospettiva non mi convincono molto le corna del nostro ponte però non sono malissimo dai nel prossimo episodio quindi direi che metteremo un attimo da parte le costruzioni diciamo in superficie che cacchio ci fa un creeper là stavo dicendo che nel prossimo episodio ci dedicheremo alla costruzione della farm di scheletri quindi sarà un episodio sottoterra però spero che comunque sarà carino quindi ragazzi per questo video era tutto vi ricordo che se volete scaricare questo mondo potete farlo tramite il link che è in descrizione adesso mettiamo anche la terza persona che è molto molto più bella così abbiamo una visuale decisamente più figa per il momento quindi ma solo per il momento era tutto io vi ricordo di passare per tutti i link qui sotto in descrizione e niente ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video